Sai come aiutare i ragazzi di Club Udini? I ragazzi hanno presentato il compito che aveva assegnato loro la professoressa. Hanno però ricevuto i voti in una busta vuota. Cosa vorrà dire? Che voti avranno preso? Serve un indizio? Niente di qua, niente di là. Non cercare dentro quello che in vista sta. E ora sapresti come aiutare i ragazzi di Club Udini?